Allora siamo con Luca Romanelli pronto a rimetterti in carreggiata con la maglia del Saremo 80 dopo l'esperienza maturata in questa prima parte di campionato con la San Stevese. Come ti senti Luca? Bene, carico e voglioso di far bene e sono contento di far parte di questa squadra e di sposare questo bel progetto e di chiudere in bellezza l'anno con tutti i miei nuovi compagni. Sei considerato un top player visto i tuoi recenti passati soprattutto in categorie ben superiori alla seconda come in eccellenza con la maglia dell'Argentina anche in promozione. Cosa senti di poter dare a questa squadra? Ma io penso che diciamo magari essendo uno dei più grandi ho visto un gruppo molto giovane potrei dare un po' di esperienza insieme a quello che consiglia e come dirige il mister Bella si spera di far bene insieme tutti dalla stessa parte diciamo. Con molto di domanda ti chiedo dato che hai appena finito di affrontare il tuo primo allenamento con i tuoi nuovi compagni di squadra come ti sei trovato con loro? È un bellissimo gruppo, tutti amici, penso che a 27 anni giocare con una squadra in cui ci sia un bel gruppo degli amici e giocare per divertirsi penso sia le basi per poter diciamo andare avanti e per continuare a giocare un altro anno magari. Ringraziamo Luca Romanelli per l'intervento e buona serata. Grazie anche a voi, buona serata.